Anche se il bicchiere da una parte lo vedo mezzo pieno e dall'altra mezzo vuoto, perché comunque oggi la squadra ha fatto davvero una buona prestazione, abbiamo costruito tanto, però ci manca sempre l'ultimo guizzo, è stato bravo a fiorirlo oggi con 3-4 interventi importanti, penso sia stato il migliore in campo, ci abbiamo provato fino alla fine, l'atteggiamento deve essere questo, perché in questa maniera, con questo atteggiamento, con questa voglia, con questo spirito, sarà comunque difficile, ma riusciremo a raggiungere la salvezza. Dobbiamo fare questo, oggi la squadra ha fatto una buona partita indubbiamente contro una squadra forte come il Pescara e niente, dispiace perché comunque noi quando facciamo questo tipo di partite qua non riusciamo a portare a casa il risultato pieno, a volte le altre magari molto meno riescono a vincere, però da questa prestazione dobbiamo sicuramente ripartire, perché come ho detto, la strada è ancora in salita, ma con questo tipo di prestazioni partite ne vinceremo. Con il nuovo modulo ha dato soprattutto molta sicurezza al reparto difensivo, due partite in cui non subite golle, questa forse è la nota più positiva della giornata? Sì, anche perché comunque, vabbè, terni lo sappiamo, eravamo, ribadisco, stati un po' fortunati, però oggi abbiamo concesso davvero poco a un attacco importante come quello del Pescara, tra l'altro gestito da un allenatore che sappiamo che fa dell'attacco il suo pezzo forte e noi siamo stati davvero bravi, abbiamo concesso poco. Dall'altra parte vorrei vedere un po' più di cattiveria da parte dei miei giocatori negli ultimi 16 metri, non parlo solo degli attaccanti perché oggi occasioni anche sporche, sono capitate in diverse situazioni, non siamo riusciti a buttarla dentro, probabilmente magari se capita il contrario il gol lo subiamo, quindi dobbiamo essere bravi, come dicevo anche ieri, anche nella partita sporca a vincere una gara non si può pensare sempre che la palla ci arrivi precisa, pulita, facile, bisogna anche metterci del nostro, essere più cattivi, più cinici, più determinati perché in questo momento serve questo, la squadra detto questo come prestazione non può che essere contenta di quello che ha fatto, però ripeto, dopo prestazioni così c'è anche un po' di rammarico perché non si è riuscito a portare a casa il risultato pieno. Mister, mi è sembrato di vedere ancora una volta una direzione arbitrale poco corretta, un dubbio e rigore su Balli, lei come l'ha visto? Sì, vabbè, rigore e dubbi ce ne erano sinceramente per entrambi, però è vero che la direzione arbitrale, insomma, sembra che gli arbitri quando vengono qua non è che ci devono regalare niente, però neanche penalizzarci nella gestione della gara con differenti valutazioni su stessi falli, detto questo insomma, come ripeto, queste sono cose su cui noi possiamo incidere, noi dobbiamo giocare la nostra gara, preparare a meglio le partite, e niente, questo è quello che dobbiamo fare. Forse occorrebbe magari sfruttare un po' meglio le palle inattive, mi riferisco un po' ai calci d'angoli. È vero, è vero, tra l'altro abbiamo anche piede perché Armon, lo stesso a Campora hanno un buon piede, poi sembra che quando andiamo là la palla ci pesa, invece un po' più di leggerezza, di serenità, di convinzione, perché deve essere così, insomma, chi ha qualità la deve mettere anche a servizio della squadra, anche in queste situazioni qua, più concentrazione, perché intanto devo mettere una palla bella, forte, tesa in mezzo e poi devono attaccare chi va a saltare, deve attaccare le zone preposte su cui proviamo anche in settimana con cattiveria, però è normale che già se la palla non arriva diventa tutto più difficile. Avanti con questo modulo anche nelle prossime partite? Ci sta dando convinzione, la squadra sicuramente rispetto a Terni ha fatto non uno ma qualche passo avanti come gioco, come tenuta.